Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti in questa nuova serie Ecco, sono caduto Ragazzi, siamo qui, riuniti tutti quanti A parte che siamo solo tre, poi... Allora, in verità ne siamo tanti, però... Eh, però in questo momento siamo solo in tre In questa serie, in questo nuovo pacchetto creato da noi Il link non ci sarà perché non sarà scaricabile Però di... di lavorarci sopra Ragazzi, solo per farvi vedere come si fa una cosa Guardate qua Guardate come si fa il Destruction Catalyst Vabbè, non ci... non mi ci metto neanche davanti perché... No, io l'ho scavato Vieni qua, Dio Vieni qua Un porco, un porco Andiamo a prenderlo, andiamo a prenderlo No, fermi, che ti lasci sono i mobili che ci spaccano il culo Eh, oddio No, restiamo... ragazzi, ci conviene incominciare Vabbè, comunque... Arrivano i mobili Prendiamo assolutamente del legno e facciamo cinque parti Oh, assolutamente... Guarda quello quanto è cazzo, tu ora... Ragazzi, muoviamoci Perché non mi prendiamo? Siamo nello spawn point Ho capito Ragazzi, conviene scappare Non per dirvelo, ma c'è proprio i mob, su Cazzo... Cazzo... Ragazzi, ragazzi, sono morto, sono morto Sono morto Sì, mi sento questa merda Oh, raga, raga, io mi sono trasformato in un bingo Sono morto, ragazzi Sono morto Sono morto Oddio Santo, oddio Anzi no, rifugiamoci qui dentro Sto guidando con un mob Sì, mi sento questa merda Per i perché ti trovi Dove non sarai negro Neko, dove cazzo sta Ti vedo Sì, non c'è No, ragazzi 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 Hai fatto qualcosa per questi benedetti mob Ho messo l'inferma Sono morto No, non vedi chiare che giorni sto vorendo Lo so Perciò come se Sì Sono morto sono morto prima morte della sede raga io l'avevo detto io l'avevo detto ok raga io io mi faccio un taglio e riprendiamo un bambino infatti una cosa io non posso tagliare che questa sono di morte questa the walking dead ma tanto io non credo male che ho fatto il culo io sto a zombie della towncraft ha rotto il cazzo muori no il vero pop no dai idea uccide uno squid e corre si son bloccato a few moments later ma ce n'è più di uno uccidi lo squid uccidi lo squid sono qui ce ne sono 20.000 vada non ti ho trovati vai portati no vaffanculo la barca di merda davide mostrati 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 dai 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 oddio che l'acqua fai davide davide dove siete mi vede che sono un alto ti vedo io sono dietro di io ok ci sono povero qual piano hai fanno un lomba dove sei dietro la scugliera dove cazzo siete? nooo guarda che bello lì più franzo di sopra sotto di me ma siete mai due? giuro e te caso ok basta picchiare no ragazzi dove cazzo siamo? siamo sotto l'acqua? no ma saluti qui ragazzi seguitemi anzi seguitemi lo seguiamo lo voglio fare vai corri corri dai proprio così acqua 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 raga mi faccio vedere se ti voglio sapere poi una noppa anche se ti voglio sapere non so però non so però non so però non so però quanti devo vuoi merda? 130? guarda i garrix? animals? raga seguitemi lo squid raga seguitemi lo squid insomma partenza insomma partenza partenza che caso ti può? partenza di merda tutto di merda e già mi sono pure perso senti l'umore dell'acqua quando cammino raga c'è un petrolio qua c'è un petrolio qua c'è un petrolio qua seguitemi gli squidi gli squidi ci porteranno alla salvezza seguitemi per esempio che sono uno squid oddio troppi squidemi aperti raga non puoi salire calves dai mongoloide figli di una donna ma porco I'm the king of the hill I'm the king of the hill Ma è affanculo Guarda che merda Ma che città Ok, inizio Davide che è imbranato Raga, qui non pa' scorre Guardate la, guardate la A few moments later Poi il mio con la spada del cielo Vai Ma io mi ci butto Ma Ma quello si butta Vabbè andiamoci anche noi così Charlie, tanto cazzo c'era Ma vedi che c'è il demonio Dentro Che cazzo A few moments later E' della pisa Mono di tutto Selve No, io me ne vo' Arigato Che cazzo Che cazzo è sta roba Via Chi è quel che è Un boss Oddio Quanti E' un inferno mob Aio Via da qua Via da qua Via da qua Aio E' morto caso E' crashato l'elicro No, è il delirio Ok Via da qua Le lascio lì piuttosto le robe Ma ragazzi andiamo un po' di legno Proprio nella mia C'è cazzo sono No Ma si io ci vado tranquillo Bello occhiatto Intanto è ritornato il crusher Sì Vaffanculo Oh non è che ci stanno seguendo Non sto gridando Ragazzi dove siete? Che vi ho perso Taglio Taglio anche questa parte Oddio Sta succedendo Cavolo Non ho messo la fast lift Che Dove siete? Quante? Ah avete scoperto i miei amici? Eh? What? Avete scop... Oddio Io sto registrando Avete scoperto Che cosa c'era? Oh Caso Hai visto cosa c'era dentro? Oh Ti è piaciuto? C'erano dei neri Ragazzi gli alderini No non c'era mai E' messaggio E' messaggio Ma sono una persona tristissima Basta questi messaggi Dai anto I sto registrando Mi spieghi giga figa Ho nessuno Madonna Ma raga A me non piace sto posto Io andrei un po' ad esplorazio Perché non abbiamo già passato abbastanza Exigene Sì Potete scavare voi Non lo so aspetto Sì perché dovreste essere Sì Sì Siete Allora No devi farlo Che raga Perché hai fatto questo? Frides Ma perché? Vuoi fare rubini? Cazzo Ho capito che vuoi fare rubini Fermi Fatemi tutti i rubini Chiuso No io non ho Chi mi fa una zappa per favore Che tipo Faccio le coltivazioni Ok io penso le coltivazioni per il maggiore Mi servono due rubini tanti due rubini zingata Basta Faccio le tool per tutti Stai un bastardo Stai un bastardo Basta Stai morendo Zingaro Via Uno per te Fermi Uno per te Ma io Porco O io ho quattro cuori Ma fa culo Ma fa culo Ok raga io già ho scolocato il primo vincore I rubi Mi servo su una zappa Ok allora però dove dobbiamo scavare di tutto qui Si prende un servizio Allora raga io mi faccio piccone Raga quando chiudiamo l'episodio Eh io non lo so Io l'ho tanto staglio lì E appunto Però io ho giga limitati ti ricorda? Perchè? Ho l'Ssd Eh Che ti fai dici? Tardeglio velocizo a sta parte Mi la taglio proprio A parte La parte che scatto la taglio Comunque è troppo pistola la rubia Ma non per le palle E cacchio guarda Cosa c'è? Lo prendi con legno Poi Lo cuoci però ti fai il rubino pickaxe Che è quasi come un piccone diamante E' un piccone diamante E' un piccone diamante E' un piccone diamante Appunto E allora E allora Cosa cazzo mi ne frega? Cosa cazzo mi ne frega? Ragazzi ci abbiamo già chi zombie cazzo Già che tolle Oh Usatelo E' un piccone E' un piccone Cosa cazzo mi ha detto C'è la tinker Sì Voi avete visto che figata però I mob che si smirano si si vuole una volta scuola di un po' qui se mi fai un commento avete visto che marcia domenica sono statunitissimi il sito bastardo hai chiaro no avete bestecche marge? no no così ne mettiamo a... merda no no cazzo non ho più cosciotti aspetta arriva uno zombie no ho troppo pista mod ma è che? oh bisciottando ma cosa mi ne frega dai tippatemi non ci credo tippami cosa? quanto sono morto è morto si è tipo inciato quanto ruvino c'è i miei materiali ma raga scusate se lo faccio va bene la pioggia dà troppo troppo castiglio ma se andiamo a cercare delle pecore anche no ragazzi dovevo mettere un'altra moto la moto è quella dei letti che sei tipo da un uomo non dormono tutti eh vabbè cazzo ma che palle e raggiungeremo domanda adesso no e dai che altro casino c'è della piatti di ruparmi ruvini cristallino c'è un inferno mobigino cosa? c'è un inferno mob secondo me se ce lo vecchiamo ci apre il culo credo che sia quel creeper no 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 è possibile ok raga io mi sono fatto il sale no questo che c'è? un momento un momento no vedi lì diciamo ciò che non fanno gli sette di armi un rubino un rubino dai è che cazzo ne so io è lì nel mare Dio è qua nel mare do di chi siamo le robe di rubino? ok my point and casa ok come serva point di possiamo allontanarci l'aspettato due piccoli ehm si ciao raga veramente cioè io stamattina qua ho cominciato a odiarlo allora la casa raga la facciamo corrispettiva al perimetro corrispettiva o lo facevo quadrata la base corrispettiva corrispettiva ma comunque stiamo anche da questo episodio da malati vabbè beh dai raga facciamo una cosa io ora noi dobbiamo praticamente sistemare tutto la casa of camera e poi ci vediamo nel prossimo episodio quando abbiamo una bella una bella mirata in quella caverna dietro di me quindi ragazzi me e loro anche è tutto ciao gente ragazzi da casa mia tutto un bacio e un abbraccio e ciao a tutti bello